Nemmeno lui, a dir la verità, sembra essere un grande fan della cravatta, ma Euclid Zakalotos, chiamato a sostituire Yanis Varoufakis come ministro delle finanze di Atene, si discosta dal centauro predecessore per uno stile dai toni morbidi, che di certo sarà apprezzato a Bruxelles, fronte sul quale è già impegnato, tra l'altro, da quando Tsipras aveva deciso di nominarlo capo del team per i negoziati tecnici. Sbaglia, però, chi pensa che questo professore dell'Università di Atene sarà più incline a fare concessioni alle politiche del rigore. 55 anni, membro di Siriza da quasi 10, Zakalotos condivide con Varoufakis una formazione all'estero e, proprio come Varoufakis, non sembra tirarsi indietro quando si tratta di sparare a zero contro le misure che hanno generato la crisi attuale. È un convinto sostenitore della moneta unica, ma non dell'eurozona nella forma attuale, la cui crisi di democrazia, ha scritto, sarebbe alla base dei problemi greci.